Grazie per essere qui oggi, grazie chiaramente ai sindaci, posso chiamarvi colleghi, essendo già stato un sindaco anche io, due o tre giorni fa? Anche noi vorremmo chiamarla, collega, ma non... Però il sindaco ha l'esperienza, l'amministratore locale è fondante, vorrei dire, la metterei per legge per fare anche i percorsi successivi, ma sono dato questo, che così veramente mi fa piacere di essere qui con voi oggi, che avete scelto qui da noi, il Senato della Repubblica, per fare questo importante protocollo d'intesa per la creazione del tavolo permanente, per la tutela, la valorizzazione turistica e ambientale delle 20 spiagge più visitate d'Italia. Quindi ho citato il vostro titolo per non sbagliare, proprio in maniera precisa, mi fa veramente piacere che siate qui, e di conseguenza la presentazione, vorrei dire, anche del G20, che è il Summit delle spiagge italiane, che a settembre 18-19 e 20 verrà fatto a Castiglione della Pescaia. Io non vorrei entrare nel merito dell'importanza del turismo, delle nostre spiagge, della bellezza, delle nostre spiagge che sono le più belle, chiaramente, del mondo, su questo credo che non ci sia dubbio, e anche dei servizi che noi diamo a tutti i cittadini, vorrei dire a tutti, comprendendo dai più piccoli ai più o età importanti, che possono essere i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri genitori, alle persone, chiaramente, che hanno disabilità, e la disabilità non sono solo dei nostri ragazzi con disabilità, ma avviene anche alle persone che, per caso, momentaneamente o con qualche anno in più, possono aver creato dei problemi. Allora, da questo alla famosa bandiera blu, che, tra l'altro, quest'anno abbiamo avuto un riconoscimento importante, di 183 comuni, se non erro, 8 in più rispetto a quelli dell'anno scorso. Più di 60 milioni di visitatori, solo nei 20 comuni balneari più importanti, tutti i dati che voi conoscete, credo, molto meglio di me, ma che io vorrei proprio ricitare, proprio per dare l'importanza dell'aspetto che qui il Senato ha voluto dare e vuole dare ai nostri comuni, al nostro turismo e a questa importante giornata di oggi, di essersi messi assieme, farrete, vuol dire dar forza a ognuno di voi, e anche alle problematiche che ci sono. Cito Bolkestein e mi fermo per citare mille altre situazioni, non entro proprio nel merito delle cose. Io avevo preparato 7-8 pagine di situazioni, ma come sempre giustamente le salto, perché credo che dopo l'importanza sia la presentazione degli amici che ho qui al mio fianco. Cito solo l'ultimo dato, che credo che sia un dato veramente importante, che il turismo in Italia vale più del 10% del PIL, del PIL globale. Voi quindi pensate cosa rappresentate voi con tutti gli altri amici, ma voi oggi in questo momento in Italia per posti di lavoro, per fattore economico, per attrazione, per far dire che l'Italia è una bellezza unica come lo è, sia da un punto di vista balneare che da un punto di vista storico, artistico, culturale e valoriale. Credo che tutto questo viene rappresentato oggi su questa conferenza stampa e dalla vostra presenza, che ancora una volta ribadisco il mio onoro di avere qui con voi e proprio per questo motivo, l'ho lasciato per ultimo ma non per ultimo, vi porto anche il saluto del nostro Presidente Elisabetta Casellati, che come tutti voi conoscete non ha mai presenziato una conferenza stampa, ma mi ha fatto portare i suoi saluti perché fa veramente piacere che siate qua tutti oggi. Concludo con questo, io vorrei, se voi ritenete opportuno, questo è di fuori della conferenza stampa, all'interno della conferenza stampa, vorrei alla fine, una cosa anche veloce, un 15 minuti, portarvi a vedere l'aula del Senato e per caso le due o tre, chiamiamole così, spassi più belli che possono esserci, perché credo che agli amministratori come i cittadini, se per caso qualcuno l'ha già vista, forse di voi per caso sì, vedere realmente, come vedete nei vostri consigli comunali, qual è la sede nel momento che si fa il consiglio, del municipio, eccetera, che non sono palazzi così lontani come tante volte qualcuno crede, ma sono, devono, sono e devono essere i palazzi che sono vicini alla gente, quindi conoscere e vedere porta anche ad abbattere quelle barriere che tante volte sono barriere culturali che ci facciamo noi ma che non esistono nella realtà, quindi se dopo finiamo, se ritenete opportuno, nella massima libertà, anche in velocità, perché so che dopo avete tutta una serie di altri problemi, quindi facciamo una cosa veloce, facciamo anche una piccola gita turistica, chiamiamola così, all'interno del Senato della Repubblica Italiana per farlo conoscere tutto. Grazie, do subito la parola a... Credo me. Benissimo, quindi al sindaco... Pasqualino Conognotto. Pasqualino Conognotto, sindaco del Comune di San Michele, il tagliamento. Grazie. Che ha perso il portafoglio, speriamo di farglielo ritrovare. Così adesso lo sa, a mezzo d'Italia, quindi se qualcuno lo trova, è lui. Allora, intanto grazie, grazie Senatore, grazie di averci accolto in questa autorevole sala e grazie anche per l'invito che ci è stato fatto di visitare l'Aula. Un ringraziamento davvero di cuore ai tanti colleghi presenti, siamo 16 su 20, ma alcuni proprio non ce l'hanno fatta e qualcuno ha il voto e ha ritenuto, proprio per non dare un imprimato, anche quello successivo, di farlo eventualmente successivamente. Volevo ricordare, Senatore, che oltre ai sindaci presenti e ai tanti amministratori, grazie, ci sono anche degli imprenditori rappresentanti di stazione categoria, che per noi sono la linfa di quel modello che vogliamo costruire nella nostra città, che si chiama economia turistica, in questo caso balneare. Senatore, lei ha presente qui le persone che rappresentano circa 60 milioni di presenze turistiche in Italia. Questo è un dato, credo, significativo per due ragioni. Uno, per la mole di tale presenza turistica in un segmento del nostro turismo, che è quello delle spiagge, quello balneare. Ma due, credo, la cosa più importante è l'essersi messi assieme sotto questo logo del G20S, che può essere declinato sia per spiagge, ma, mi permetto di dire, un po' anche orgogliosamente, per sindaci. Lo diciamo. Qualche volta, insomma, qualche lavoretto lo facciamo anche noi di buono nei nostri territori. Ecco, questa esperienza, che in pochissimo tempo è diventata di livello nazionale grazie alla sensibilità e all'intelligenza dei miei colleghi, ha avuto modo di esprimersi immediatamente, dopo pochi mesi di relazione tra di noi, a Bibione, a San Michele Attagliamento, trattino Bibione, altrimenti non ci conosce nessuno, in una spiaggia, insomma, che ospita circa 6 milioni di presenze turistiche e che ha voluto ospitare, appunto, questi amministratori per fare un po' il punto della situazione partendo un po' dal basso. Sì, è un po' il nostro crucio quello di avere un po' la partenza dal basso. Da lì, lì siamo e lì dobbiamo governare i nostri territori, però avendo in questo caso e con questa speranza di poterlo fare, là dove ci sono davvero dei problemi da risolvere, ma anche delle opportunità da cogliere, di farlo assieme, di farlo immediatamente. E questo è stato forse l'elemento principale di quei numerosi tavoli di lavoro che abbiamo messo in campo a Bibione, approfondendo tematiche straordinariamente importanti e vitali, direi, per la nostra economia turistica. Colgo l'occasione, perché poi mi dimentico, di ringraziare tutti i nostri collaboratori tecnici, i grandi professionisti che abbiamo avuto, sia degli enti locali, ma sia anche quelli esterni, la segreteria tecnico-scientifica, la segreteria che si è occupata della promozione e quant'altro. Quindi grazie di cuore, veramente, e che avranno anche il compito, grazie al nostro protocollo, di tenere vivo, contestualizzare tutte le nostre attività per i prossimi G20, in modo che di volta in volta riusciamo a fare delle azioni concrete da portare alla vostra attenzione, piuttosto che all'attenzione del livello regionale o comunque mettersi in relazione con quelli che sono degli altri livelli di governo. Questo è un dato che ci teniamo molto. E credo che anche dal punto di vista degli altri, da quelli che riceveranno i nostri input, sia importante sapere che è già condiviso, che non c'è da perdere tempo, non c'è da sprecare risorse. È già condiviso e quindi se parliamo di erosione costiera, se parliamo di bolkestian, se parliamo di sicurezza, se parliamo di problematiche ambientali, sappiate che le cose sono state elaborate, sono state contestualizzate, sono state approfondite. Credo che questo sia un grande valore aggiunto complessivamente per la struttura della nostra politica amministrativa e anche politica vera e propria, polis. Ecco, entrando poi nel merito, e lascerò qualche spazio a qualche sindaco, perché ci siamo anche costruiti un tavolo permanente, ringrazio peraltro l'ospedalità del sindaco di Riccione che ci ha appunto avuto modo di dare questa opportunità, abbiamo anche costruito un tavolo permanente dove di volta in volta andiamo a fare un focus sulle materie più importanti, in modo che al prossimo tavolo abbiamo già elaborato le cose da fare e ci resta da portare all'attenzione di tutto, di tutto il mondo, perché ormai siamo sul panorama turistico internazionale, quelle che sono le idee, le opportunità che offre questo segmento, segmento magari in linea, più che segmento del turismo banale in Italia. Quindi poi, lo anticipo, chiamerò il sindaco Mariano Gennari per quanto riguarda la BOI, questo è un accenno come siamo, eccetera, il sindaco di Cavallino Treporti per quanto riguarda la promozione, la sindaca Renata Tosi per il concetto di sicurezza e il sindaco Giuseppe Nobiletti per le materie, ma se altri volessero intervenire, perché io dedico poco tempo a me stesso e chiuderò velocemente, ci farebbe solo piacere perché credo sia il contesto giusto per dire in poche cose il tanto che abbiamo fatto. Ecco, questo è un po' il nostro anche modo regionale, peraltro, che ha la sua connotazione principale, proprio nel fatto che siamo sindaci e siamo parte di un territorio italiano. Ebbene, oggi secondo me si scrive una pagina di storia importante, perché credo sia la prima volta che dal basso parte un'iniziativa di questo genere. Di solito sono istituzioni diverse che ci riuniscono per, va bene comunque, questo è il nostro assetto istituzionale e costituzionale. Però siamo qui a dire, insomma, che ci siamo noi, che siamo, non siamo, siamo comunque sempre filogovernativi, nel senso che vogliamo fare le cose e troviamo nelle strutture statali e regionali i nostri interlocutori privilegiati, non c'è desiderio di autonomia, di cose, di sparate in avanti, no, niente di tutto questo. Vogliamo solo dire, c'è una realtà che sta lavorando seriamente sulle problematiche vere, sulle opportunità che vogliamo cogliere, sfruttateci, sfruttateci. Togliamoci la giacca, lo dico sempre, l'ho detto al meeting di Bibione, lo dirò sempre, togliamoci la giacca, togliamoci i colori e lavoriamo perché i nostri territori, dei colori, spesso, e di altre considerazioni che si fanno ad altri livelli, devo dire, li preoccupano meno e non vogliono forse nemmeno tanto sentire parlare, ma risolvere in realtà i problemi. Siamo qui per risolvere i problemi, insieme a voi e a tutti quelli che diventeranno i nostri, ripeto, interlocutori privilegiati. Grazie a lei e passo la parola al sindaco Farnetani, futuro comune, che ospiterà la seconda puntata del G20S. Grazie. Allora, sindaco di Castiglione della Pescaia, Giancarlo Farnetani. Farnetani, allora intanto buongiorno a tutti, con i colleghi, diciamo ci stiamo già a salutare, anche io mi associo al collega Codognotto per quanto riguarda il ringraziamento, al senatore De Poli per quanto riguarda l'ospitalità in questa sede sicuramente prestigiosa, è importante per noi sindaci presentare appunto in questa sede questa iniziativa, che tutti riconosciamo, il padre assoluto del G20 è il nostro amico Pasqualino, che ha avuto questa idea di metterci insieme, di iniziare a lavorare, di scambiarci le opinioni, le azioni importanti che noi all'interno dei nostri comuni facciamo. Quindi credo che a lui vada il merito di aver creduto in questa iniziativa, di averci spronato e di averci guidato fino ora alla seconda edizione. La prima edizione è stata sicuramente importantissima per tutti noi, perché intanto abbiamo affrontato tutta una serie di tematiche, indipendentemente da quello che era l'aspetto puramente turistico, abbiamo affrontato tutti quelli che sono i temi che noi tutti i giorni abbiamo di fronte, con i quali dobbiamo convivere e che abbiamo la necessità anche di arrivare a soluzioni che comunque ci risolvano le varie problematiche. Alcune le accennava il collega Codognotto, ma i temi sono questi. Voglio aggiungere anche quello della fiscalità, perché è un tema sicuramente importante. Io so che ho ossessionato un po' tutti con questa gestione del fondo di solidarietà comunale, però il senatore deve sapere che i comuni turistici in questa valutazione, in questi criteri di ripartizione del fondo sono i più penalizzati, perché hanno grandi capacità fiscali e hanno pochissime opportunità di entrare nel meccanismo di far bisogni standard. Per cui, insomma, siamo penalizzati, perché ora non voglio stare a approfondire molto, però colgo l'occasione alla presenza del senatore, scusate i colleghi, perché sui far bisogni standard ci vengono rapportati sostanzialmente agli abitanti. E se la capacità fiscale la consideriamo sulle seconde case, anche sulle seconde case bisogna considerare i far bisogni standard, perché insomma il verde lo manteniamo anche per le seconde case. Quindi siamo impegnati in una serie di iniziative che ci consenta, se non altro, di ricalibrare la seconda parte del conteggio del fondo di solidarietà comunale, che è la parte perequativa, che dovrebbe tenere conto che, insomma, nei comuni turistici questa realtà delle seconde case esiste e porta anche ricchezza. faceva riferimento il sindaco Codognotto legato al numero di presenze che facciamo nei nostri comuni. Queste sono presenze che in alcuni casi sono contabilizzate, fra virgolette, e è il caso del comune di San Michele di Entagliamento e degli altri comuni. Per quanto riguarda la Toscana, per esempio, non sono contabilizzate, perché noi tutte le presenze che sono, che si è detto, negli affitti brevi, non sono contabilizzate. Quindi è un peso comunque che noi abbiamo sul nostro territorio e che è un peso e anche una ricchezza, che è data sicuramente dalle seconde case. Ma questa è una parentesi per dire che anche questo è un elemento importante per i nostri comuni. La seconda edizione che appunto faremo al Castiglione Pescaia, e per questo ho già avuto modo di ringraziare i colleghi, e le ringrazio di nuovo in questa conferenza stampa per aver scelto Castiglione Pescaia. Per noi è sicuramente importante ospitare questa iniziativa. Volevo dare anche un taglio, un tantino diverso, un pochino diverso, anche per entrare dentro ai temi specifici legati al turismo, alla gestione del turismo. È vero che è tutto collegato, non si può parlare di turismo se non si parla di servizi, non si può parlare di turismo se non si parla di ambiente. Quindi sono tutti elementi collegati che ci portano a predisporre un prodotto turistico e lo possiamo predisporre se siamo a posto con tutte queste altre cose, altrimenti non possiamo offrire niente. Abbiamo avuto modo di essere stati ospiti in un precedente incontro qui a Roma alla presidenza del Consiglio di un'associazione che lavora nel campo dell'accessibilità. Questo credo che sia un tema importante per noi. Vorremmo affrontare appunto fra i temi, poi nella giornata, oggi pomeriggio quando ci incontriamo in conferenza dei sindaci, stabiliremo anche quelli che sono i temi principali su cui lavorare. Però questo legato al turismo sostenibile e accessibile, inteso non soltanto, mi sono portato qui una tabellina che ci ha fatto vedere il nostro amico nella presentazione, di non tenere presente le disabilità motorie soltanto, perché l'accessibilità, e ci faceva tutto l'elenchino, ciechi, sordi, quelli con il regime di terza età, famiglie con bambini piccoli. E quindi dobbiamo organizzare e pensare ai nostri servizi anche in questa ottica, perché oggi c'è un'attenzione sicuramente superiore rispetto a quello che è stato nel passato. Questo credo che sia un tema che dovremo comunque affrontare e mettere insieme. Abbiamo necessità, poi non sto a sottolineare quello che è oggi l'ordine del giorno di oggi pomeriggio, però abbiamo la necessità anche di lavorare insieme su alcune progettualità che ci vedono, come dire, coinvolti tutti. Io dicevo prima alla collega di Cavallino Treporti, ce ne ho copiato, perché il patentino dell'ospitalità, per esempio, è un'opportunità per i nostri operatori di portare, i nostri operatori e anche i cittadini, di portarli a ragionare su quello che è il sistema dell'accoglienza di un Paese. Perché l'accoglienza di un Paese si misura sì dal numero di posti letto che abbiamo, ma poi si misura anche il rapporto a come le persone che occuperanno questi posti letto te le tratti nel tuo Paese. E non ci può essere il ristoratore o l'albergatore che le tratta in un certo modo, i campeggi in un altro, e poi magari i cittadini dicono, ma che siete venuti a fare? Ci crea confusione di autovetture, auto e giro. Quindi noi dobbiamo creare il sistema accoglienza e su questo, ripeto, noi abbiamo, come Castiglione Copiata, impropriamente, perché siamo partiti ora e siamo contenti di questa esperienza, perché abbiamo coinvolto oltre 100 operatori del nostro territorio. È un numero importante. Noi abbiamo lavorato sul Plastic Free. Sono iniziative che vanno, come vedete, in quale line, in varie parti del territorio, ma bello sarebbe, se riusciamo, come G20, come Comune a ragionare in un'ottica di un prodotto, un progetto che vale per tutti. Pasqualino è partito col divieto delle sigarette sulla spiaggia, qualche altro lo ha seguito. Questo credo che sia un elemento che è legato al turismo sostenibile. Quindi lavorare in progetti ambientali ci porta le cinque vele, la bandiera lilla, la bandiera gialla della ciclabilità, quella verde dei pediatri per le spiagge, le cinque vele, il bandiere blu. Quindi credo che siano tutti elementi che potrebbero unificare la nostra immagine, l'immagine del G20, dei comuni che fanno parte del G20 rispetto a questi temi. Quindi io credo che quello che oggi facciamo, la sottoscrizione di questo protocollo, di questo accordo, fra noi sindaci, dispiace, ma comprendiamo la situazione degli altri comuni che sono assenti, perché insomma ci sono elezioni, fra 20 giorni nemmeno si vota, magari non so nemmeno se qualcuno è ricandidato oppure no, poi il risultato elettorale è sempre un punto interrogativo nella nostra vita amministrativa, per cui ritengo anche corretta la scelta che hanno fatto gli altri sindaci di non sottoscrivere in questo momento il protocollo. Però siamo in 16, siamo un bel numero, e quindi la sottoscrizione di questo protocollo intanto ci danno un'organizzazione, ci consente di dire cosa facciamo, questa può essere una stupidaggine, ma sappiamo che chi è il sindaco che coordina da un'edizione all'altra, insomma cerchiamo di darci un pochettino di organizzazione del lavoro che è sempre importante, noi sindaci ce la dobbiamo dare, perché altrimenti poi sparegliamo da tutte le parti, tutte le parti ci tirano la giacchetta e non sappiamo più a chi stare dietro. E quindi questo è già, diciamo, un elemento. In più, nella riunione che abbiamo fatto a Riccione il 4 dicembre, abbiamo deciso di allargare come invitati la decisione delle cinque spiagge, no? Poi ci siamo resi conto che la sesta coinvolgeva un'altra regione che era la regione Sicilia, abbiamo detto vabbè allarghiamo, perché la nostra idea è quella comunque di fare massa critica, di essere in grado di proporre, non in contrapposizione come giustamente diceva Pasqualino, ma noi dobbiamo su certi temi avere il supporto degli organi istituzionali, dalla regione allo Stato, perché insomma non è che noi possiamo decidere, che ne so, sulla Volkestai, noi attuiamo quello che viene deciso, punto, però vogliamo essere, come dire, partecipi alle decisioni, alle scelte, perché insomma poi i cittadini e gli operatori, cioè, vengono da noi, non è che bussano, magari bussano anche ai senatori del luogo, sicuramente sì, ai deputati del luogo, sicuramente sì, però insomma in primis, ma la realtà in primis è semplice, poi come si dire si sale, però le realtà interessate sono le nostre coste e non è inutile dire cosa significa il turismo balneare per la nostra Italia, è già stato detto, è un peso importante, noi questo turismo lo dobbiamo organizzare, lo dobbiamo rendere credibili, lo dobbiamo migliorare e dobbiamo soprattutto lavorare su una, anche promozione delle nostre spiagge, non soltanto per il turismo balneare, ma per quello che possiamo offrire nei nostri comuni, dal turismo culturale, dal gastronomio, quindi dobbiamo dare un servizio completo, una opportunità completa sul nostro territorio che si possono individuare non nei due o tre mesi di balneare, ma le possiamo estendere a tutta quanta, anche la stagione invernale, insomma Riccione ha fatto questo salto e dal punto di vista mediatico è stato veramente importante, poi sui risultati, questo lo sai, i tese sono andati bene o meno, comunque mare d'inverno è stato comunque un elemento dal punto di vista mediatico che ha smosso un pochettino l'ambiente, quindi ecco, questi sono i temi e io sono convinto, come siamo convinti tutti noi che siamo qui, perché diversamente non ci troviamo, la giornata sarebbe una giornata a pezza, ci siamo trovati qui perché siamo convinti che insieme possiamo dare le risposte ai nostri territori, le risposte ai cittadini e soprattutto le risposte ai nostri ospiti, quindi io vi aspetto a Castiglione, 18, 19 e 20, il senatore se ci vuole fare visita noi ci siamo, la Toscana comunque è bella, come tutta quanta, è riparato, è riparato, ho cercato di recuperare, altrimenti dopo qualche schiaffetto in quella, no, effettivamente insomma voglio dire, noi siamo in Italia, siamo in grado di offrire veramente un turismo accogliente, buona accoglienza e anche aree sicuramente ambientalmente importanti rispetto ad altre realtà del territorio, diciamo europeo, fermiamoci qui. Grazie a tutti i colleghi e ci vediamo. Grazie, allora nel dare la parola a Francesco Palumbo di Toscana Promozione volevo salutare anche il collega Marco Croatti che ci ha raggiunto qui, ti ringrazio. Prego. Grazie a tutti, grazie per l'invito. Io già l'altro anno ho seguito il G20 delle spiagge quando siamo stati col sindaco Cotognotto a San Michele dal punto di vista del turismo e quindi a maggior ragione quest'anno come Toscana Promozione Turistica accompagnavo molto volentieri il sindaco Farnetani di Castiglione a ospitare l'evento perché da un punto di vista turistico è stato detto molto il sindaco prima diceva 60 milioni di stranieri per la prima volta l'Italia l'altro anno ha superato i 60 milioni di stranieri si è quasi avvicinato a un superato ma a questi vanno aggiunti gli oltre 60 milioni di italiani per oltre 120 milioni di presenze è chiaro che i comuni che voi rappresentate è come se vivessero una doppia realtà durante una parte dell'anno sono comuni con un certo numero di abitanti e un'altra parte dell'anno raddoppiano, quintuplicano spesso decubblicano anche il numero di abitanti all'improvviso e quindi il settore del turismo la scelta di accompagnare il turismo è sia un obbligo di sopravvivenza per ragionare con la popolazione e per capire come rendere sostenibile alla popolazione questi flussi turistici incredibili ma dal nostro punto di vista di Toscana Promozione Turismo è anche un'opportunità incredibile perché i nuovi flussi turistici la nuova domanda turistica non vuole sentire di impattare nelle località dove va in maniera negativa non vuole sentire di essere un peso per la località ma vuole sentire di essere accolta in maniera positiva e di diventare un turista temporaneo soprattutto lì dove per il turismo balneare la permanenza media è più alta vuole essere un cittadino temporaneo per fare questo i temi della sostenibilità sono stati citati il progetto pilota del divieto di fumo del sindaco di San Michele il progetto della carta dell'accoglienza della cittadinanza ma pensate a tutti i temi della mobilità sostenibile elettrica come possono impattare su quei comuni autobus che all'improvviso arrivano sulle coste e sulla destinazione tutto questo serve a dire risolviamo quel problema per risolverlo per la popolazione per risolverlo anche per i turisti e quindi per promuovere queste spiagge come prime località del mondo dell'offerta italiana in chiave di turismo sostenibile che siano in grado di accogliere i nuovi flussi turistici in maniera completamente sostenibile a mio modo di vedere è una carta che si gioca anche proprio in termini di competitività per le imprese del balneare che ogni tanto magari possono soffrire di altre difficoltà la sostenibilità intesa come biglietto da visita e come forma di promozione molto innovativa anche a livello internazionale è una tua importante oltre che essere una necessità per questi e per altri motivi che sono stati detti prima come Toscana Promozione Turismo accompagneremo molto volentieri il sindaco Farnetani e tutti i sindaci nell'esperienza toscana a Castiglione di Settembre grazie ridiamo la parola a Pasqualino Pornognotto che deve fare un po' di saluti un po' di più che altro di far fare un po' di interventi ecco esatto prima mi scusano tutti i colleghi ma facciamo due o tre interventi proprio per anche per dire all'onorevole senatore un po' dove stiamo lavorando ma proprio facciamo spot quindi chiamerei su per cortesia i tre sindaci insomma per tre temi di cui abbiamo parlato nel tavolo permanente non sono naturalmente esaustivi ma è solo per dare un esempio di come stiamo lavorando quindi il sindaco di Cattolica Mariano Gennari per il discorso Bolkenstein il sindaco di Cavallino Treporti Roberta Nesto per il tema della promozione il sindaco di Riccione Renata Tosi per le questioni della sicurezza mi si permetta invece di citare tutti i presenti coloro che hanno che hanno avuto la cortesia di dare la loro adesione mi scusino se qualche assessore che li accompagna non è citato però voglio oltre a me stesso e a Giancarlo Farnetani ringraziare il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda il vice sindaco di Caorle Giovanni Comisso il sindaco punto di Cattolica Mariano Gennari il sindaco di Cavallino Treporti Roberto Anesto il sindaco di Chioggia Alessandro Ferro l'assessore di Comacchio Riccardo Pattuelli il sindaco del comune di Forio Francesco Del Deo in arrivo il vice sindaco di Grado Matteo Polo eccolo qui ciao Matteo il presidente del consiglio comunale del comune di Ischia Ottorino Matera il sindaco del comune di Esolo Valerio Zoggia il vice sindaco del comune di Lignano Sabbiadoro Alessandro Marosa il sindaco del comune di Riccione Renata Tosi l'assessore del comune di Sorrento Rachele Palomba e il sindaco del comune di Vieste Giuseppe Nobiletti e naturalmente ringrazio ancora i nostri rappresentanti delle categorie e degli imprenditori ti darei la parola Renata per contestualizzare un po' il tema della sicurezza e di quanto ci preoccupa anche questo ambiente un po' fatto anche di abusivismo purtroppo delle spiagge che dobbiamo assolutamente insieme cercare di debellare prego Sì, io ti ringrazio e prima appunto di entrare sul tema che abbiamo un po' insieme sviscerato già nell'appuntamento di dicembre volevo anche sottolineare il fatto che questa diciamo nuova strada e percorso insieme ci permette anche di essere meno soli perché è vero il fatto che noi siamo il primo campanello e ahimè anche è richiesta non solo la risposta ma anche la velocità della risposta e quindi avere anche un parterre oggi di appuntamenti e tante volte anche nella semplice chat che ci siamo creati ci permette di avere quella vicinanza e quel sentirsi meno soli nell'affrontare anche una questione nuova che non è da poco nel fare il sindaco e anche nella bellezza insomma di fare il sindaco questo è già un elemento che senza entrare nella specificità degli argomenti ci permette già di mettere il segno il segno positivo a questa bella avventura nello specifico per quanto riguarda la declinabile sicurezza è logico che per noi è importante regalare ai nostri turisti quindi la declinabile doppia regalare ai nostri turisti un momento di vacanza che abbia anche la componente serenità nel vivere le nostre località e il nostro bel paese e quindi anche con il fatto di aiutarci ad avere sicuramente presidi quindi anche uomini che non appaiono anche così insomma nelle vesti consuete della presenza sul territorio per quanto riguarda la sicurezza ma nel contempo che ci permettano appunto di vivere insieme è il momento nel quale noi ci regaliamo appunto la convivenza con i nostri carissimi ospiti che sono appunto i turisti dopodiché sicurezza per noi vuol dire anche sicurezza nel godersi la spiaggia e quindi evitare che ci siano appunto dei momenti di abusivismo anche commerciale e di grande illegalità che per fortuna anche con le buone pratiche che qualcuno di noi ha già attuato ci permetterà di metterle a sistema e di andare appunto ad applicarle perché anche questo è nella comunione di intenti che ci siamo regalati quindi provare ciò che già è riuscito positivamente in altre occasioni e anche la sicurezza dal punto di vista dell'evitare appunto l'approfittarsi di questo nostro paese e quindi andare tante volte un po' sopra le righe e oltre le righe realizzando delle infrastrutture che forse rispondono a quello che è il bisogno momentaneo e alla richiesta momentanea di servizio ma che devono sicuramente essere declinate in maniera più ordinaria e più normale affinché non siano semplicemente estemporanee ma siano la normalità e quindi declinate con una norma e con una cura dell'ambiente che oramai è l'elemento più importante attraverso il quale vinciamo nel fare turismo è stata preziosissima velocissima tanto è vero che visto che siamo molto veloci molto bravi ma lo sapevamo sul fatto di essere sintetici se c'è qualche altro collega che vorrebbe puntualizzare qualcosa abbiamo il tempo forse per riuscire a farlo perché credo che tutti siamo molto veloci quindi mi permetti che do la parola all'altra signora quindi Roberta Nesto il tema della promozione senatore adesso l'ho consentito solo un attimo ieri sera parlavamo con degli imprenditori e poi allargando anche questa nostra idea ad altri oggi mettere piccole risorse su un panorama turistico internazionale dove la Germania ti compra intere aeroporti per portarti in turista in Egitto piuttosto che in Turchia piuttosto che in Tunisia diventa fondamentale fare un gioco di squadra per dire intanto venite in Italia poi ognuno di noi sarà bravo per portarsi il turista nella propria spiaggia ma intanto venite da noi perché ci stiamo organizzando per se non diamo questo messaggio forte noi credo che in pochi anni se grazie a Dio che finisca il terrorismo perché purtroppo ne abbiamo goduto dico purtroppo abbiamo goduto anche di un paio di anni buoni nel senso che perché c'è stata l'impossibilità di andare in altri stati ma ciò non deve venire perché ecco ma e quindi adesso piano piano gli altri stati stanno riconquistando i grandi effetti di mercato quindi fare promozione ti passo la parola Roberto creda insieme almeno su una visione strategica sia fondamentale grazie Pasqualino io faccio anche il vice presidente di un altro tavolo quello della Costa Veneta e mi occupo in quel tavolo di Demanio quindi la questione Demanio è una questione particolarmente importante vedete però succede una cosa che siamo talmente presi da questi aspetti quello del Demanio quello dell'ambiente eccetera che molto spesso lasciamo in seconda o un momento in un terzo momento temi come la promozione perché tanto i turisti in Italia ci sono in qualche modo i comuni e gli imprenditori riescono a offrire servizi d'eccellenza e quindi le cose vanno direi bene tenete presente però che per due motivi non possiamo abdicare a un ruolo importante il primo motivo è quello che ha appena detto Pasqualino Codognotto cioè nel senso fenomeni internazionali hanno in qualche modo siccome noi per fortuna abbiamo una stabilità nel nostro paese ormai radicata siamo sicuramente più attrattivi abbiamo però oggi come oggi assolutamente bisogno di creare un percorso che finora c'è stato solo parzialmente mi spiace essere un po' brutale su questo ma lo Stato in Italia fino ad oggi ha fatto una politica della promozione forse perché non ce n'era bisogno che non è sicuramente oggi più idonea per quelle che sono le richieste che oggi ci sono il mondo dell'impresa ma anche i comuni turistici ovviamente oggi si sono associati e vogliono in sinergia in rete con lo Stato e con le regioni avere la possibilità di sviluppare questa azione sinergica che però è fondamentale se non facciamo promozione credo che la nostra sfida sia una sfida che per quanto ci occupiamo di tutti i temi che non ha oggi un senso allora credo che uno dei significati trasversali a tutti i nostri tavoli sia proprio questo noi dobbiamo fare queste azioni importanti dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista anche imprenditoriale però deve esserci un motivo che ricorre in tutti i nostri tavoli e che ci collega alle regioni e ci collega allo Stato cioè quello di promuovere adeguatamente tutto quello che facciamo quindi io direi che è un po' quello pensavo perché un tavolo della promozione in realtà forse non dovrebbe esserci un tavolo della promozione che in realtà è bene che ci sia ma la prima promozione deve essere un motivo ricorrente in tutti i tavoli per quanto riguarda poi l'azione degli enti sovordinati ai comuni cioè le regioni e cioè lo Stato io credo che sia fondamentale poi a livello di nostro io sarà una delle richieste che farò al tavolo oggi pomeriggio di avere un tavolo permanente con gli enti a noi sovraordinati perché questo è fondamentale deve esserci una politica generale che in Italia oggi non è sufficiente oggi in Italia i comuni si sentono soli credo che l'abbiamo detto in tutte le salse qui da quando abbiamo iniziato questa conferenza stampa ma io guardo gli occhi dei colleghi i sindaci sono in trincea e hanno bisogno di far rete con i loro colleghi ma non basta quindi senatore a lei che oggi rappresenta lo Stato noi lasciamo questo messaggio importantissimo aiutateci a costituire un tavolo permanente in modo tale che le nostre azioni i nostri obiettivi noi li abbiamo chiari come arrivarci altrettanto però se non c'è una sinergia con lo Stato e con le regioni e questo dovreste aiutarci e sono sicura che lo farete voi cosa vogliamo portare avanti al di là degli aspetti amministrativi che abbiamo visto abbiamo assolutamente bisogno di far capire come il mare e quindi la spiaggia sia un valore importantissimo l'Italia è bagnata dal mare in tutte le sue almeno in tre in tre lati abbiamo un valore inestimabile che ancora riusciamo a far capire in maniera limitata abbiamo quindi bisogno di creare o di rafforzare il brand a seconda dei punti di vista abbiamo bisogno di elevare i nostri servizi a standard ancora più elevati ma in realtà io aggiungo abbiamo bisogno soprattutto di promuovere quello che già abbiamo le buone prassi l'accessibilità che c'è abbiamo bisogno di però anche fare formazione e informazione il comune la regione possono fare tanto ma da soli è una goccia in un mare perché al di là dell'azione importante noi rappresentiamo tante località e tante presenze rappresentiamo un indotto importante però se non c'è una regia unitaria quindi una rete un percorso che venga comunque cristallizzato e seguito da tutti rischiamo di disperderci in mille rivoli e poi non raggiungere l'obiettivo quindi io credo che la promozione sia fondamentale e debba iniziare attraverso la sinergia di tutti noi un momento importante e innovativo se non addirittura fondamentale e fondante per il turismo in Italia grazie Roberta devo chiedere altrettanta sintesi a Mariano Gennari e poi pregherei i sindaci intanto di mettersi la fascia e chiamiamo quassù ognuno la volta facciamo la firma e la foto a diritto e poi con il senatore ci richiamo presso l'aula del senato prego Mariano buongiorno a tutti Mariano Gennari sono il sindaco di Cattolica Cattolica detiene anche un piccolo record all'interno del G20 perché siamo un comune piccolissimo di 5 km quadri e siamo il comune che ha più pernottamenti per km quadrato ovviamente tutti i discorsi della sostenibilità che sono stati fino adesso pensate quanto siano importanti per noi tuttavia ho accettato veramente con favore questo tavolo gruppo di lavoro particolarmente complicato che è quello della Volkestein e perché io credo e qui mi rivolgo davvero ai due senatori che abbiamo il piacere di avere in aura io credo che la politica abbia un debito verso i banneari per quello che ha fatto negli ultimi vent'anni credo che nel momento in cui si doveva parlare seriamente e concretamente in Europa di questo tema purtroppo la politica italiana forse ha latitato e doveva prendere maggiormente sul serio questo tema io però penso che nulla sia irreparabile credo che si meritano il rispetto di chiudere un po' questa pantomima delle proroghe l'Europa ci dice no continua e trovare una soluzione vera ora i comuni dei G20 possono essere un'opportunità per discutere questa cosa anche per la politica italiana perché noi rappresentiamo quella parte di De Magno più produttiva perché quei perdottamenti non è che vengono per vedere le bellezze di Cattolico che dicono le nostre bellezze è la costa noi amiamo il mare amiamo la costa e li vengono e l'arenile ricordatevi è solo la parte della nostra città più vicina al nostro bene più grande che è il mare e quindi ascoltate gli amministratori ascoltate i balneari e troviamo finalmente una soluzione definitiva per questo annoso problema che investe tutti i nostri imprenditori del settore balneare grazie grazie Mariano anche per la sintesi grazie grazie a tutti